Assessore Romandini si svolgerà domani un workshop le tecnologie a basso impatto ambientale, campi di applicazione e vantaggi. Quali sono i temi affrontati? Riguarda comunque soprattutto le nostre strade provinciali è una tecnologia che vogliamo far conoscere come provincia a tutti i comuni della provincia di Terra ma non solo, anche gli ordini professionali ai quali rivolgo l'invito a partecipare a tutti gli ordini professionali, ordini degli ingegneri, architetti, geometri, periti tutti quelli che comunque progettano o comunque preparano pratiche per attraversare le nostre strade sono tecnologie all'avanguardia e quindi non ci saranno conseguenze una volta comunque attraversate le nostre strade sia in senso trasversale che longitudinali ci saranno tecnici altamente specializzati che spiegheranno queste nuove tecnologie che oltre a essere poco impattanti sono anche poco costose. Qual è l'importanza e i vantaggi del workshop? Di evidenziare delle tecnologie a basso impatto ambientale queste tecnologie sono state sviluppate da Sirti praticamente esse permettono di ridurre la manomissione sulle strade la movimentazione dei terreni e soprattutto il minor disturbo arrecato ai negozi e diciamo alle residenze anche di svago eccetera la Sirti ha sviluppato questa tecnologia che si chiama la One Day Dig praticamente lo scavo in un giorno praticamente ne facciamo dalle 150 alle 250 metri in una giornata per cui poi è tutto pulito per cui minor disturbo alla cittadinanza, alla popolazione e lavori diciamo che si fanno in un minor tempo possibile domani mattina alle 10 saranno aperti i lavori ci saranno tecnici specializzati e invito anche la cittadinanza a partecipare non solo i tecnici e i tecnici dei rispettivi comuni